Nei giorni scorsi l'Assemblea delle imprese appartenenti alla sezione ricevimenti di Confindustria, Bari e Bat, ha eletto il nuovo consiglio direttivo che rappresenterà il settore nei prossimi quattro anni e naturalmente ha eletto anche il nuovo presidente. Si tratta di Michele Boccardi. Ha eletto presidente della sezione ricevimenti di Confindustria, un importante ruolo questo considerando quanto questo settore è fondamentale anche proprio per lo sviluppo economico del territorio. Un obiettivo importante, un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie allo sforzo e all'intervento di tutte le strutture che fanno parte della sezione, quindi approfitto per ringraziare tutti quanti gli associati, il direttivo, i tre vicepresidenti, il delegato La Piccola che chiaramente sono stati eletti con me oggi tutti all'unanimità. Un momento importante che deve rappresentare però un punto non di arrivo ma un punto di partenza perché questo settore che da anni è presente ed è leader in Puglia come un'economia ma non è mai stato rappresentato, non ha mai avuto un'identità giuridica. Da oggi possiamo dire con orgoglio che siamo una sezione territoriale reale e quindi abbiamo tutti i rappresentanti e quindi il primo punto che ci proponiamo è quello di aprire un dialogo con tutte le istituzioni sia regionali che nazionali. Anche perché come dicevamo è un settore particolarmente trainante, ci sono dei numeri in questo senso che ci dicono quanto effettivamente è attrattivo anche questo settore per la nostra regione. È un'economia che fa fatturati, fa numero di dipendenti e soprattutto si lega a quello che ormai la Puglia è a livello nazionale leader in assoluto dell'attrattiva turistica internazionale. Quindi dobbiamo trasferire anche nel wedding questo messaggio e soprattutto mettere in campo a livello nazionale un'azione di coordinamento anche con tutte le principali regioni d'Italia per far sì che tutti quanti noi, le imprese del nostro settore abbiano un bolino blu, un certificato di qualità affinché si possa garantire verso la domanda all'estero. La Puglia coordinerà questo tavolo organizzativo di questa costituenda associazione che proprio si prefigurerà due obiettivi essenziali, normative giuridiche nuove per il settore ma soprattutto prevedere un'azione di marketing wedding tourist all'estero coordinato da tutta l'Italia.